Siamo arrivati. È stata una meravigliosa giornata. Ok, uno alla volta. Forza ragazzi, ritirate al mio bagaglio e tutti sotto la doccia. Arrivederci ragazzi. Senti, quanto pesa questo coso. Vogliamo andare? Quest'anno trai da concorso di bellezza. Sei un campione, Jim. Tutto merito di Walt, che ha lasciato sempre sparare a me. Era un piacere vedere in azione un maestro, per questo non ho sparato molto, Jim. Sarà meglio andare? Sì. Un attimo, devo ancora prendere qualcosa. Ho preparato la tinozza ai ragazzi. Avranno bisogno di due immersioni per essere presentabili. Non volete accomodare? Impossibile, una partita a tennis nel pomeriggio. Ah, capisco. Ecco fatto, presa tutta la nostra roba. Grazie di nuovo, è stato un vero piacere. Ah, il piacere è stato tutto a me. Di nuovo arrivederci. Ciao, ciao. Buon viaggio, arrivederci a presto. È un simpaticone, vero? Sì, è proprio simpatico. È il tipo più strano che abbiamo incontrato. Lui e sua moglie perderebbero la strada di casa per un'altra caccia all'anatro. Joan, mi sto chiedendo che cosa abbiamo in tutte queste sacche. Spero tanto di sbagliarmi, ma qualcosa mi dice che non promettono niente di buono. Oh, mio Dio, ma cosa c'è qui? Va via, Led, togli quelle zappe. Torna dentro. Joan, siamo sicuri di non avere un elefante qui dentro? Che ne dici se controlliamo? Vediamo un po'. Ah, ma questo è il bottino di caccia di Led. Vogliamo vedere se ha cambiato i suoi gusti. Oh, d'accordo, guardiamo. Poverino, guarda di cosa si accontenta. Così per un po' di tempo lascerà in pace la mia attrezzatura da golf. Così per un po' di tempo la mia attrezzatura da golf. Così per un po' di tempo la mia attrezzatura da golf.